L'unica cosa che dobbiamo dirle è grazie, veramente grazie. L'unica cosa che dobbiamo ringraziare, veramente dobbiamo ringraziarlo, è uno stadio nuovo, giusto, un sedio da 20.000 posti come un teatro. Va bene, va bene, siamo pronti, ci vediamo con Tozzi, io me li ritrovo tutti però, ci vediamo a lei, un altissimo, sia sereno. I fatti, l'avranno ragione i fatti, veramente, veramente. Grazie per averci portato a madre, grazie, veramente grazie di pure. Speriamo di andare avanti e di contarsi anche oltre. Non faccio il modesto, 20.000 sono pochi, noi siamo anche rifiuti. Ma non sono pochi, non sono pochi, perché bisogna anche, se un club, scusa, quando ti iscrivi al circolo del tennis, piuttosto che al circolo della caccia, piuttosto che al circolo l'incovante, quelli vogliono sapere, qual è il tuo titolo di studio, uno deve essere, voi, noi di questi 20.000 posti, possiamo prendere 5.000 posti regalati ai meno ambienti, che però siano delle persone che hanno studiato, di fare la scuola bene, che vanno l'invenzione. Grazie, forse a Napoli!